Porto con me in una nuova routine da matricola universitaria. A differenza degli altri anni, la sveglia si è spostata un'ora dopo. Infatti mi sveglia alle 7 e faccio la mia solita colazione con calma. Prendi che senza la colazione io non mi attivo. Dove dì però ho praticamente gli orari uguali a quelli del liceo, perché inizio alle 9 e finisco alle 13. La mattina ho deciso di raccolgere i capelli in una mezza gota perché erano un po' sporchi. Posto dello zaino sto utilizzando una borsa, e tanto devo portarmi solo l'iPad e l'acqua delle chiavi. Lezioni mi stanno piacendo tantissimo. Appena tornata a casa ho pranzato. Primo pomeriggio poi è venuto a trovarmi Fede. Anche stando alla stessa università abbiamo corsi diversi, quindi non ci vediamo mai. Nella scuola eravamo abituati a vederci tutti i giorni. Ammata di tanta forza di volontà sono andata in palestra con mamma e abbiamo fatto il nostro solito allenamento di crossfit. Sono lavata i capelli in palestra e appena tornata a casa mi sono preparata per uscire. Avrei dovuto prendere la mia macchina.